Musica Amici di Viaggi Molise benvenuti a una nuova puntata, questa puntata è dedicata al teatro in particolare dedicata a Sergio Castellitto, attore, regista, insomma conosciutissimo con una grande carriera alle spalle per la prima volta Sergio Castellitto stasera recita nella città d'origine della sua famiglia Campobasso non era mai accaduto prima, un grande evento qui al teatro Savoia, mette in scena Zorro questo monologo che è tratto da un romanzo breve di sua moglie Margaret Mazzantini l'aveva portato in scena più di vent'anni fa per la prima volta, l'ha ripreso negli ultimi mesi noi stiamo per incontrare proprio Sergio Castellitto qui all'interno del teatro Savoia Quanto mi piace di barrare con la metropolitana, ogni volta che passa un trenino qua sotto io mi godo, oddio le ossa, andiamo un po' che cosa vorresti Zorro per tirarti su, un bacino, una carezza sì, sì, ma dove dico io però, eh, toletta, toletta del mattino importante, importante l'ingegno, l'ingegno è importante, eh sì, è molto importante l'ingegno basta, no, 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 io ho esperienza, io ti dico che più ti lavi, più puzzi beh, quando sento che si affaccia quell'odorante Sergio Castellitto, allora, insomma, vederla a Campobasso è sempre per noi un'emozione e che effetto le fa tornare a Campobasso ma soprattutto venire a recitare qui? Eh beh, è la prima volta che in realtà recito qua perché sono contento perché mio padre, i miei fratelli, le mie sorelle sono tutti nati qua e quindi, insomma, parte del sangue mio è molisano, tranne mia madre che è abruzzese ma d'altra parte nessuno è perfetto per il resto sono molto contento perché è una città molto ospitale, bella, bellissima che conoscevo da ragazzino attraverso le fotografie in bianco e nero di mio padre che portava alla villa comunale le mie sorelline piccole sì, le sorelline, quando erano sorelline, insomma, quando erano piccole io invece sono nato molti anni dopo, diciamo così, sono figlio del boom economico, ecco Ma lei negli anni è tornato spesso a Campobasso a vedere, che non so, le tradizioni, i venerdì santo, il corpus doni? Sì, venne una volta a vedere la processione bellissima e poi qui ho ambientato, diciamo, gran parte del finale del film Non ti muovere con Penelope Cruz, dalle parti di Boiano Ecco, a proposito di Non ti muovere, lei è stato il primo ad accorgersi che il Molise, insomma, aveva delle potenzialità anche per il cinema perché fino ad allora grandi produzioni non c'erano state che cosa l'aveva attratta, insomma, perché aveva deciso di venire? Che cosa ricorda di quella scelta? Lo stesso motivo per cui sono contento di stare qui stasera cioè il fatto emotivo di tornare... lì in quel caso lo feci proprio veramente per fare una specie di omaggio a mio padre alle origini e così via, anche perché il personaggio dell'Italia è un personaggio, come dire, di povera del sud in qualche misura, ecco Sì, le potenzialità ci sono tante l'anno scorso abbiamo fatto, l'estate scorsa abbiamo fatto un giro con Margaret siamo arrivati fino a Termoli, al mare, insomma è una regione che potrebbe davvero essere sfruttata in maniera formidabile perché c'ha un mare magnifico c'ha delle montagne straordinarie, c'ha delle vestigia romane meravigliose penso soltanto a Sepino Ma tanto sono identici, sai Corborano, il mio e il tuo sono due giornali identici, vuoi scommettere? Vediamo un po', allora ecco, hai dei ladri te lassù, vabbè ce l'ho anch'io quella, te hai delle guerre? quelle non mancano mai, vediamo un po', vediamo un po' che fai adesso guardi l'ora, vai in fretta, no io l'ora non ce l'ho, per me il tempo sta... pensa magari potrebbe tornare un giorno a fare un altro film ma chi lo sa, c'è la Film Commission qui? e allora fatela non posso non chiedere una cosa, a proposito di non ti muovere in quel film c'era Paola Cerimele che è scomparsa tragicamente l'anno scorso lei ha avuto delle parole molto affettuose nei suoi confronti quella circostanza tragica, si trovava proprio in Molise in quei giorni come la ricorda? la ricordo con grande tenerezza, l'avevo conosciuta durante i provini ed ero rimasto veramente colpito dal talento, dall'umiltà, dalla leggerezza e così via per cui è stata una cosa brutta, brutale e ingiusta e stasera lo spettacolo che faccio qua glielo dedico veniamo a Zorro, allora lei dopo tanti anni ha deciso di riprendere questo spettacolo di tornare in scena, perché proprio in questo momento è una scelta casuale o c'è un motivo? ma io questo copione, questo testo l'ho fatto scritto da Margaret più di vent'anni fa l'ho fatto in teatro vent'anni, più di vent'anni fa ebbe un grandissimo successo e così via dopo tanti anni, durante la chiusura totale stavamo in campagna, sistemavamo tutti i copioni e così via mi ha ricapitato in mano il copione, mi sono accorto di quanto fosse ancora incredibile, emozionante e attuale perché se c'è una cosa che tutta l'esperienza dell'epidemia ci ha insegnato è avere una relazione con la solitudine, col senso di abbandono questa è la storia di un uomo che perde tutto, finisce sulla strada però non perde la degnità e ha detto che è una storia difficile, di dolore ma non c'è solo il dolore c'è anche un aspetto più... è anche un clown, fa ridere, fa piangere sì, non è un osservatorio il suo sociologico doloroso stare sulla strada è un fatto molto doloroso però noi facciamo il teatro, il teatro è una metafora quindi ci deve raccontare anche altre cose come ad esempio il suo sberleffo continuo verso il mondo dei normali che lui guarda da questo osservatorio di dolore ma anche privilegiato perché non avendo niente non ha niente da perdere allora io la ringrazio, aspettiamo in Molise per un altro film a questo punto speriamo, faccio molto piacere termina così questa puntata di Viaggi in Molise dedicata a questo nostro incontro con Sergio Castellitto che ci ha raccontato di questo suo spettacolo che ha messo in scena qui a Savoia, Zorro ma ci ha raccontato anche delle sue origini molisane del suo legame con questa regione grazie, arrivederci alla prossima puntata di Viaggi in Molise